Un futuro all'insegna dell'impegno, attenzione particolare da parte dei sindacati al documento programmatico inviato alla regione Molise. Un anno difficile anche per l'Associazione Costruttori ed Ili del Molise. Il bilancio delle attività registra le insidie legate alla diffusione del coronavirus. Domiciliari per la giovane fermata dalla polizia è trovata in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente destinato alla vendita in occasione del capodanno. Basket femminile di Serie A1. Dopo cinque sconfitte consecutive, la Magnolia Campobasso torna al successo in trasferta contro le ragazze del Lucca. Buon pomeriggio e bentrovati gentili telespettatori. Nuova edizione del nostro telegiornale. I vertici delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali più rappresentative tornano a parlare del documento programmatico predisposto ed inviato alla regione Molise. Sottolineano il diffuso interesse suscitato ed annunciano un futuro di impegno e protagonismo. Vediamo. l'importanza della notizia sta tutta nelle firme in calce al documento inviato nei giorni scorsi alla regione Molise e alla stampa e al comunicato che è stato prodotto successivamente proprio in queste ore. Sono i nomi dei rappresentanti delle sigle più rappresentative delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Tutte insieme testimoniano un impegno comune perché il Molise abbia un futuro. Un futuro che tutti loro vogliono percorrere come affermano consapevoli della responsabilità del compito di rappresentanza di interessi diffusi loro affidato. Avvertendo che saranno in campo per recitare un ruolo da protagonisti per i lavoratori, per le imprese, per i giovani. E' questo il messaggio che il partenariato nella sua diversificata e complessa articolazione intende inviare come augurio per un prospero futuro a tutti i cittadini molisani. Un percorso in loro che è iniziato affrontando e continuando a dibattere sulle tematiche che hanno prodotto un primo documento programmatico condiviso. Documento che sta suscitando molto interesse e che è diventato punto centrale di un dialogo sempre aperto con le istituzioni. Tematiche importanti e significative quali sanità, scuola, trasporti, infrastrutture, assetti istituzionali, sviluppo sostenibile, tutte questioni che reclamano, chiedono e pretendono soluzioni. La loro lotta comincia da qui, forse per la prima volta davvero con compattezza, una compattezza che chiede attenzione e concretezze e non, come spesso è accaduto nel passato, l'arroganza di un potere istituzionale che quasi sempre si è mostrato debole e perfino inutile per lo sviluppo delle cose economiche, sociali e culturali del Molise. Con la caduta del sindaco di Casa Calenda, Sabrina Lallitto, diminuisce la già scarsa rappresentanza femminile tra i primi cittadini dei comuni molisani. Proviamo intanto a riflettere sulla decisione di far cadere un'amministrazione comunale in un periodo di forte criticità e di emergenza. Diciamo subito che la caduta di un'amministrazione comunale è sempre un fatto abbastanza traumatico per un territorio e i suoi abitanti e se essa avviene in un periodo critico e difficile, come questo che stiamo attraversando, diventa davvero pericoloso perché un commissario prefettizio potrà svolgere le normali attività amministrative, ma non certo fare quelle scelte politiche e strategiche che sono proprie di un sindaco, della sua giunta e dei consiglieri. Le decisioni dei tre consiglieri che a Casa Calenda hanno deciso di sfilarsi dalla maggioranza e che, accordandosi con quelli dell'opposizione, hanno di fatto determinato la caduta del sindaco Sabrina Lallitto, vanno decisamente in direzione di un blocco sostanziale della più giusta prassi di un'amministrazione che deve prevedere programmi e scelte non solo di gestione, ma di sviluppo e rilancio territoriale. Un errore, dunque, non saremo noi a giudicare, ma qualche perplessità ce l'abbiamo. Pensiamo, ad esempio, che può succedere che qualche consigliere non sia più in sintonia con gli altri eletti, ma un percorso democratico e che magari si dimette e si fa, perciò, sostituire dagli altri non eletti della sua lista. È la giusta posizione, anche nel rispetto di chi lo ha votato, accettando le linee programmatiche dell'intera lista. Aprire uno scenario di immobilismo per alcuni mesi, nella possibilità di ricostruire altri percorsi politici, sembra una sorta di avventura. Un'avventura che oggi, in piena pandemia, ci sembra davvero molto più di un azzatto, qualcosa che sarà di sofferenza, soprattutto per gli abitanti, in questo caso di quelli che risiedono a Casa Calenda. Probabile che avranno avuto un loro perché, anche se oggi la scelta sembra quantomeno improponibile e deleteria. Intanto, con il sindaco di Casa Calenda e con quello di Pizzone Letizia Diorio, diminuisce la presenza femminile dei primi cittadini dei comuni molisani. Ne sono adesso soltanto 16 su 136. Un segnale davvero discutibile per una regione che propone davvero poche donne nelle istituzioni. L'Associazione Costruttori Edili della Regione stila un bilancio delle attività svolte. Anno difficoltoso, aggravato dalla diffusione del virus e dalla speranza di un futuro migliore. Anche quest'anno viene stilato un bilancio delle attività svolte dall'Associazione Ance Costruttori Edili del Molise. Le imprese sono state messe in maniera evidente a dura prova, come tutte le attività economiche del Paese, e hanno reagito alle difficoltà, adattandosi a nuove regole e a nuovi scenari per cercare di contrastare la pandemia. Non è stato facile, ma l'augurio per il nuovo anno è che le cose possano migliorare. Confindustria, si legge nella lettera del Lance, ha mostrato caparbietà nel voler continuare a tenere vivo il più possibile il mondo produttivo che fa da motore all'Italia. Il mezzogiorno però deve tornare protagonista di una nuova stagione di investimenti e riforme affinché l'Italia possa trovare anche nel mercato interno un momento di sviluppo. Attraverso Confindustria si sosterrà chi chiederà aiuto e si continuerà a lavorare per creare sviluppo e posti di lavoro, convinti che solo un Paese unito, omogeneo ed equilibrato possa svolgere un ruolo protagonista nell'Europa Unita. La cronaca, una giovane è stata fermata dalla polizia mentre attraversava Venafro a bordo della sua auto. Proprio all'atto del controllo, percependo un odore acre provenire dal mezzo, i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione trovando 700 grammi di marijuana confezionata in involucri di plastica e 14 grammi di cocaina pura, ispezionata pure la sua abitazione dove è stato recuperato un altro chilogrammo di marijuana occultato tra suppellettili. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro. La donna, che non ha precedenti di polizia specifici, è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Lo stupefacente, destinato alla vendita nella provincia pentra per le festività di capodanno, avrebbe fruttato svariate centinaia di euro. Qualità dei prodotti agroalimentari e sicurezza per i consumatori. In Alto Molise nasce un progetto per la tracciabilità dei pascoli montani. In Alto Molise un laboratorio sulla sostenibilità ambientale. L'ente regione ha approvato l'ambizioso progetto proposto dal Comune di Capracotta. Realtà che a questo punto viene riconosciuta il Paese del Benessere, un'idea che intende valorizzare la sicurezza dei prodotti agroalimentari e tutelare la salute dei consumatori. Un percorso rivolto alla tracciabilità dei prodotti della terra che vuole privilegiare la qualità del territorio montano. Il lavoro sarà incentrato sulla caratterizzazione dei pascoli per certificare l'assenza di contaminanti come i metalli pesanti, idrocalburi e polveri sottili. Infine il lavoro di analisi dei prodotti lattiero caseari per l'isolamento e la caratterizzazione dei microorganismi. Il giardino della flora appenninica sarà il lab strategico dove verranno effettuate le ricerche. L'idea, sostenuta dal primo cittadino Candido Paglione, nasce con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune di Capracotta, l'Ateneo Molisano, e il CNR di Napoli. I primi passi saranno mossi in avvio di nuovo anno assieme alla struttura tecnica della SNAI Alto Medio Sannio. Approvata dal Consiglio Comunale di Campobasso la proposta di deliberazione che riguarda il regolamento comunale che disciplina l'acquisto di lavori, forniture e servizi. I principi fondamentali di tale provvedimento fanno riferimento ad economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento senza alcuna discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. Salcito perde quest'anno lo spettacolare fuoco di San Silvestro acceso in piazza Pietravalle, una tradizione di origine contadina interrotta a causa delle restrizioni imposte in ambito nazionale. Purtroppo una delle tradizioni che va a perdersi nel 2020 è il falo di San Silvestro, ma se ne sono perse anche altre di tradizioni estive e invernali. Sì, purtroppo diciamocelo, questo è stato un anno veramente funesto, non vediamo l'ora della fine di quest'anno. Purtroppo si è portato via alcune tradizioni, non solo invernali ma anche estive, ricordo le arti e mestieri sulla scalinata. Abbiamo, tra l'altro, il lavoro di una prologo che stava nascendo ebbene è stata interrotta. Noi, quello come anche la Farchia, come anche il fuoco di San Silvestro, purtroppo sono tradizioni che non vogliamo perdere. Noi ci auguriamo che vengano riprese il prima possibile. Purtroppo, date le ultimissime restrizioni, anche iniziative come il fuoco di San Silvestro e la Farchia, tradizione bellissima, non potranno essere messe in atto, purtroppo. Saranno fatte delle piccole iniziative simboliche dove non si creeranno ovviamente accentramenti e resterà il simbolo, ad esempio, della Farchia. Come avete visto nel Paese, molti cittadini a fianco alla loro porta hanno messo simbolicamente una Farchia proprio per ricordare e non perdere la tradizione che, ripeto, ci auguriamo venga rimessa in atto il prima possibile. Salcito e tutto il Molise hanno bisogno per il richiamo turistico che occupano queste tradizioni che possano al più presto tornare, se non in primavera, almeno in estate. Me lo auguro il prima possibile, veramente. Il Molise vive di queste tradizioni, vive di questa cultura e vive di questo turismo. Quindi in questo momento veramente su quel lato ce la stiamo passando veramente male, diciamo così detto volgarmente. Il nostro augurio è appunto tenercele nella memoria e riproporle il prima possibile, sperando che tutte queste restrizioni e queste iniziative di contingentamento saranno utili proprio per questo. Io me lo auguro vivamente. I cittadini hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa del Comitato stranieri residenti a Montenero di Bisaccia, finalizzata a raccogliere fondi per acquistare e quindi donare panettoni ai meno fortunati con cittadini. Il tutto in occasione delle festività natalizie. L'iniziativa è in loco presso la Caritas San Paolo. Il Comitato stranieri ringrazia coloro i quali con il proprio contributo di generosità hanno reso possibile tale gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti delle famiglie in difficoltà che vivono ed operano a Montenero di Bisaccia. E ascoltiamo ora un brano scritto e cantato dal notaio Giuseppe Gamberale. Il suo augurio va alle persone malate di Covid-19 affinché possano tornare presto a casa dai propri cari. Siamo con il notaio Gamberale. Questa volta non facciamo tappa in uno dei comuni della provincia di Sernia, anche se è già organizzata quella ad acqua viva. Però il notaio ha un modo particolare di fare gli auguri. Ci vuole dire in che maniera? Praticamente ho letto sui giornali che un alpino è andato sotto all'ospedale a fare la serenata alla sua moglie che era affetta da coronavirus. Ho notato questo gesto semplice e sincero riportato dai giornali di tutto il mondo, anche dal New York Times. Allora, stando così le cose, mi ha ispirato a fare a me anche gli auguri di coraggiamento a tutti quei malati di coronavirus. E ho fatto un piccolo video che umilmente vi presento. Serena, a te io faccio, ora a te porto coraggio, brutto Covid te ha ferito. Il contagio te ha colpito. Sei nervosa nel tuo letto. Tosse secca hai nel tuo petto. Brutto Covid ti fa soffrire. Prima o poi dovrà finire. Prima o poi dovrà finire. Alta febbre senti al momento. Mal di testa da dolore. Mal di gola più forte ancora. Asma e bronchi è assai violenta. Spossatezza ora già aumenta. Un bacione mando a te per codaggio dare a te. Un compleanno speciale, una carriera prestigiosa per l'architetto Antonio De Felice che in occasione dei suoi 90 anni riceve un riconoscimento per la sua lunga e qualificata vita professionale. Il presidente dell'ordine degli architetti della provincia di Campobasso Guido Puchetti ha infatti consegnato al collega De Felice a nome di tutti gli iscritti un'opera realizzata dall'artista termolese Michele Carafa. Passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Cielo sereno oggi su gran parte del Molise. Stellato dalla sera, le temperature sono comprese tra la minima di 3 gradi a Campobasso e la massima di 13 gradi a Termoli. Da domani peggioramenti con possibili fenomeni temporaleschi nel corso della giornata. Mosso il mare Adriatico, venti deboli variabili. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile, l'Umana Venezia vince la sfida contro il Bologna e torna a dominare in solitaria il campionato. Prestazione positiva anche per la Magnolia a Campobasso che supera l'ostacolo Lucca in esterna. Ma andiamo a vedere risultati e classifica. Tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile. Umana Venezia a Bologna 90-69. Lemura Lucca a Magnoli a Campobasso 68-83. San Martino di Lupari Vigarano 86-62. Ragusa Battipaglia rinviata. Costa Masnaga Broni 79-76. Sassari Baschetschio 51-71. Sesto San Giovanni Empoli 66-80. La classifica. Umana Venezia 24 punti. Bologna 22. Baschetschio 20. Ragusa 18. Empoli 16. Costa Masnaga e Sesto San Giovanni 14 punti. San Martino di Lupari 10. La Magnolia a Campobasso 8 punti. Broni 93-6. Dinamo Sassari 4. Lemura Lucca e Vigarano 2. Battipaglia 0 punti. Dopo 5 sconfitte consecutive la Magnolia a Campobasso torna al successo nel campionato di pallacanestro femminile di Serie A1. Lo fa imponendosi per 83-68 nella sfida contro Lucca. La Magnolia a Campobasso chiude con una gioia questo turbolento 2020. Hanno funesso non solo per quanto riguarda l'avanzata della pandemia che ha colpito il mondo in generale e lo sport in particolare, ma anche per quanto concerne la stagione da cadette per le rosso-blu, chiamata in prima battuta a misurarsi con la serie che conta. Dopo una striscia negativa, che ha fatto registrare ben 5 sconfitte consecutive complice anche la panchina ridotta a causa dei tanti infortuni, per la squadra guidata da coach Sabatelli torna il sole. La sfida esterna con il Lucca infatti si chiude con un 68-83 in favore della squadra ospite. All'avvio le molisane soffrono ancora qualche incertezza, con il Lucca che l'esto prova la fuga. A dare una sterzata ci pensano le solite Vojta, 8 punti nel solo primo quarto, ed Ostarello, che guidano agilmente la manovra offensiva. Per aumentare il potenziale bellico delle fiori d'acciaio si aggiungono ai giochi anche Gorini, con una tripla, i liberi di Carolina Sanchez e la caparbietà di Maragoni, che con un'azione personale a fil di sirena chiude il primo periodo con un 19-25. Le geometrie delle squadre si scontrano sul parquet, con le padroni di casa che cercano di recuperare il risultato, ma alla fine la Magnolia riesce ad arrivare all'intervallo lungo con 6 lunghezze di vantaggio. A rientro dagli spogliatoi il gioco continua ad essere intenso, con le Toscane che cercano di rialzare la testa e la Magnolia che non ci sta e continua a picchiare duro. Lo fa con Sanchez e Bonasia, che permettono alla loro squadra di arrivare al trentesimo con un vantaggio di 9 lunghezze. L'ultimo quarto assume così i toni di una marcia trionfale, con le molisane che mettono il turbo e chiudono il match. Lo fanno con quattro elementi in doppia cifra, due ad un solo possesso dei 10 punti, ma soprattutto con un risultato che consente di chiudere l'anno con un bottino di 8 punti nel girone. Il campo basso calcio chiude il 2020 nel migliore dei modi grazie al primato in solitaria nel campionato di Serie D, ma la società pensa già al futuro con gli obiettivi di rimanere al vertice del girone F e di aprirsi la strada verso l'internazionalizzazione. L'ultimo giorno dell'anno è tempo di bilanci, ma anche il primo momento in cui si pianifica l'avvenire. In questo contesto anche la società del campo basso calcio tira le somme di quanto di buono fatto in questo 2020. Un anno dolce e amaro per il rosso-blu, che si sono visti strappare la rimonta e il sogno del professionismo in quell'ormai storico mese di marzo che ha costretto il mondo a fermarsi a causa della pandemia. Sognavano di brindare al 2021 in Lega Pro i vertici della società, così non è stato, ma il 31 di dicembre non è il giorno dei rimpianti, ma quello dove bisogna prendere coscienza di ciò che può essere costruito nel nuovo anno. L'obiettivo dei lupi per il 2021 è sicuramente quello di tentare l'assalto a quel sogno strappato dal Covid-19 e in questa direzione il solco è tracciato. La squadra di Mister Cudini infatti è riuscita a chiudere il 2020 al vertice del girone. Ora la sfida è rimanere più in alto di tutti fino al termine del campionato di Serie D. Ma le aspirazioni non finiscono qui, i vertici societari infatti hanno nel mirino un gol altrettanto ambizioso. Costruire la primavera internazionale rosso-blu, una piattaforma sociale in grado di riunire tutti i tifosi sparsi per il mondo. L'ingresso del socio italo-americano Matrizetta, avvenuto agli inizi di dicembre, è infatti solo il primo tassello di un puzzle che punta in questa direzione. L'amministratore delegato statunitense, oggi socio di minoranza ma che ha già un'opzione per rilevare il 40% della società del Campobasso, ha già iniziato a tessere la sua tela per internazionalizzare i lupi. Una strategia che per in una addetti ai lavori sembra assolutamente azzardata, ma forse rizzetta, uomo abituato a navigare nel funesto mondo dell'analisi di marketing, si sarà accorto che il Molise è una delle regioni con il più alto tasso di emigrazione. E gli Stati Uniti e il Canada sono tra le mete preferite di quanti decidono di trovare fortuna altrove. E' proprio con questo intento che è stato formalizzato in questi giorni il secondo pezzo del puzzle, un accordo con la Italian Football TV, canale statunitense che permetterà al Campobasso di portare le sue geste atletiche al pubblico americano, dotandosi così di un palcoscenico in grado di avviare questo ambizioso processo di internazionalizzazione. Se la società Rosso Blu riuscirà nel suo intento, potrà garantirsi un futuro dalle aspettative rose, ma intanto l'obiettivo primario per i tifosi rimane uno, uscire a partire dal 2021 dalla valute della Serie D. E con questo servizio si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione. Arrivederci. Grazie.